Un saluto come state ben ritrovati, mi invito come sempre a iscrivervi al nostro canale qui sul logo L, a lasciare un bel like e a commentare numerosi. Ragazzi, me le sono riviste le mani, le ho viste, le ho riviste e le ho riviste ancora. E mi sembra pazzesco quello che è successo oggi al Dallara di Bologna, perché al Milan obiettivamente mancano due punti, cioè mancano due calci di rigore. Forse andava anche annullato il loro gol del Bologna per una trattenuta su Ballotouret, ma su quello possiamo anche discutere. Può essere un po' borderline, soggettivo, mentre lo step on foot, ci hanno insegnato, non è mai soggettivo. Step on foot è calcio di rigore. E su Rebic c'è il piede di Soumaro. Dopodiché nel secondo tempo c'è il braccio largo sempre di Soumaro, che ha detta di tutti, tranne che di Tiago Motta, che dice un movimento naturale, è calcio di rigore. Ora, al Milan mancava già un calcio di rigore con l'Empoli, ricordiamo fallo su Teo Hernandez. Pioli furioso, come giusto che sia in questo caso, perché è una questione di piangere. Si piange se si ha un motivo, in questo caso mi sembra un lamentarsi più che legittimo. Con tanti tifosi di Milan che vorrebbero anche la società, con qualche dichiarazione, insomma, roboante. Di fatto, in epoca di VAR, è incredibile. Tre episodi tutti in una direzione e soprattutto non vedere lo step on foot o giudicarlo regolare. È cambiato il regolamento ieri, non ce lo hanno detto. Voglio capire voi che cosa ne pensate, qualsiasi squadra a voi ti fiate. Mi sembrano, insomma, elementi oggettivi, soprattutto i due calci di rigore. Mentre su Ballo Ture si può discutere, lui si è lasciato un po' andare. Step on foot, calcio di rigore, braccio largo, per quanto mi riguarda, ma non solo per quanto mi riguarda, anche lì, calcio di rigore. Al Milan mancano due punti, la classifica ora cambierà, sono due punti che pesano. Ditemi che cosa ne pensate. Commentate numerosi, mi raccomando, con civiltà e rispetto. Iscrivetevi sul logo L, se non avete ancora fatto, attivate la campanella. E se vi va, lasciate un like qui sotto. Vi aspetto per altri aggiornamenti in questo canale video flash come questo. Due minuti, due minuti e mezzo, volte tre, tre e mezzo massimo. Un abbraccio. Grazie. Grazie.